ciao ti do il benvenuto in questa meditazione prenditi il tuo tempo per rilassarti per permetterti di allinearti alle vibrazioni di questo momento per rallentare assicurati di aver trovato un posto dove puoi svolgere la meditazione serenamente è molto importante sai in modo che tu possa dedicare tutta la tua attenzione i tuoi pensieri il tuo respiro a questo momento se trovi difficoltà a rilassarti non ti preoccupare sono qui per questo per il momento ti chiedo di chiudere gli occhi e di iniziare a respirare lentamente possibilmente solo con il naso in modo che tu possa notare il flusso dell'aria che entra e che esce dal naso mentre nel frattempo i tuoi polmoni si gonfiano e si sgonfiano facendo alzare e abbassare il tuo addome a tempo del tuo respiro ecco semplicemente questo per i primi minuti dedica la tua attenzione al tuo respiro se in un certo senso lo trovi noioso ti capisco è normale è qualcosa di abbastanza monotono non possiamo osservare il proprio respiro ma anche questo fa parte dell'esercizio e in questa apparente noia abbiamo modo di rilassarci e di rallentare quasi come se fosse una piccola sfida con noi stessi riuscire a rimanere fermi ad osservare il nostro respiro all'esercizio all'esercizio riesci a sentire la tua mente richiedere con insistenza di passare ad altro di fare qualcosa sperimenta la sensazione di andare contro la richiesta della tua mente in qualche modo distaccandoti dalla tua mente e in questo semplice fare avviene dentro di te qualcosa di molto importante qualcosa che sta alla base della meditazione stessa avviene un distacco tra il tuo essere la tua presenza la tua capacità di osservare e la tua mente con le sue richieste i suoi pensieri la sua impazienza ed è molto importante prendere atto di questa cosa di come la nostra persona la nostra parte più profonda all'interno di noi non sia la mente come non lo è il nostro corpo capisco che sia difficile riuscire a vedere la mente con la stessa facilità con la quale possiamo vedere il nostro corpo il fatto è che da sempre ci lasciamo comandare dalla nostra mente dai nostri pensieri dai nostri impulsi e non sto dicendo che questo sia qualcosa di negativo mi piace pensare che nella meditazione non ci sia il positivo e il negativo ma ci sia semplicemente l'osservazione il rendersene conto e in questo renderci conto facciamo questa azione senza giudizio prendiamo consapevolezza di una certa cosa senza etichettarla come positiva o negativa ma semplicemente notando la sua presenza assieme alla nostra e come puoi notare anche in questo caso la nostra osservazione è distaccata dall'oggetto da quella cosa della quale ci siamo accorti e in questo distacco dove riconosciamo che certe situazioni certe sensazioni non siano noi stessi si crea dello spazio tra noi e quella cosa come prima abbiamo creato dello spazio tra noi e la nostra mente adesso riusciamo a creare ulteriore spazio tra noi stessi e il contenuto dei nostri pensieri il contenuto delle nostre sensazioni adesso andiamo a creare un ulteriore spazio smettendo di utilizzare la parola mio miei ad esempio la frase i miei pensieri la trasformiamo adesso in i pensieri oppure questi pensieri non fanno più parte di noi in questo momento dell'osservazione adesso ti chiedo di immaginare nel modo che ti viene più semplice più immediato questo distacco fisico tra te stesso e la tua mente tra te stesso e i tuoi pensieri immaginalo immaginalo proprio come uno spazio concreto e posiziona in questo spazio il tuo respiro immaginati di poter respirare in questo spazio respirando a pieni polmoni lasciandoti andare completamente in questo respiro rilassante e sereno vorrei che visualizzassi come se l'aria che fuoriesce dal tuo naso potesse spingere lontano la tua mente e i tuoi pensieri ad ogni respiro ad ogni respiro sempre di più inspiri e mentre espiri l'aria che esce come un vento allontana i tuoi pensieri e intorno a te si crea un grande spazio di calma e di silenzio e in questo silenzio puoi notare com'è il tuo corpo possa finalmente riuscire a rilassarsi respira e rilassati per qualche minuto cercando di portare la tua attenzione sui tuoi muscoli immaginandoti che si possano diventare sempre più pesanti e ti rilassi semplicemente questo che è Grazie a tutti. 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 a tutti.